Si chiama Una famiglia per una famiglia ed è un modello innovativo di intervento sociale pensato per sostenere le famiglie che vivono un periodo di difficoltà nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni affettive con i figli. Una famiglia che si trova in un momento critico è affiancata da un'altra che prende in carico l'intero nucleo in difficoltà e non soltanto i minori, attraverso un patto educativo da tutti accettato e sottoscritto per un periodo di tempo prestabilito. La durata dell'intervento è in genere di 12 mesi durante i quali si creano le basi per una maggiore autonomia e stabilità della famiglia bisognosa d'aiuto. Il progetto ideato dalla fondazione Paidea Onlus di Torino in collaborazione con la città metropolitana di Torino e otto enti gestori dei servizi sociali è stato presentato questa mattina a Palazzo Cisterna. Si tratta di un programma di affiancamento familiare che appunto all'interno del quadro con cui è stato pensato e costruito e sviluppato in questi anni ha un'ottica preventiva. Un'ottica preventiva che ha come scopo quello quando è possibile di evitare l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare sostenendo non soltanto il bambino con percorsi di tutela ma cercando di sostenere tutto il suo nucleo familiare. Nasce infatti dalla domanda di un minore che è stata posta all'assistente sociale che era avete aiutato me, vi ringrazio, anche i miei genitori hanno bisogno di aiuto, tutta la mia famiglia deve essere aiutata. Questo progetto ha proprio il pregio di partire dal minore e dal suo diritto a rimanere in famiglia e quindi a poter sostenere attraverso delle politiche che in questo caso sono sostenute anche dal volontariato come avviene attraverso l'associazione Epaidea che mette a disposizione un'esperienza che si collega a quella della città metropolitana, a quella dei consorsi. Il tutto sta in una logica di statuto metropolitano che prevede sia questa attenzione nei confronti dell'infanzia dedicando un articolo dello statuto proprio all'infanzia e questo è davvero molto innovativo, molto originale e all'articolo 13 dello statuto che prevede che la città metropolitana si occupi di sviluppo sociale indipendentemente da quelle che sono le funzioni delegate della regione. Quindi nel DNA della città metropolitana l'infanzia, le politiche sociali sono molto significative e molto importanti. Grazie